una vita lo cantavo se l'abbiamo di Milano quello che manca il stuttore rappresenta il disonore la scoffita e le utoli sempre e solo qui le azioni non so ne ci siamo noi ma di cazzo siete voi eccoci qua ragazzi buongiorno a tutti e bentornati a spasso col tringa la macchina infernale il tringa sempre presente iscrizione campanellina pollice in su per il tringa dopo pollice per il diavolo allora ragazzi stamattina allora voglio segnalarvi il canale di un mio amico ve lo lascio sia in descrizione video che nel primo commento allora ragazzi fatemi una cortesia non c'entra niente col calcio però è un amico ho bisogno che mettiate qualche like e qualche iscrizione fatemelo per favore personale vi lascio il link come ho detto primo commento in descrizione è un canale che parla di carte da gioco ragazzi non sono molto pratico se a qualcuno piace iscrivetevi e seguitelo se no comunque diamo la possibilità a questo canale che è veramente di un mio amico di andare avanti quindi fatemi questa cortesia personale veramente vi lascio il link in descrizione per favore portiamolo quanto meno a portare andare avanti a fare i video è importante allora ragazzi sempre team maglie calcio come sempre codice scolto tringa per fare i vostri ordini pagamenti sono alla consegna descrizione video tutti i miei social il gruppo telegram allora ragazzi stamattina abbiamo tante cose di cui parlare cercherò di essere abbastanza breve ma vediamo un po allora io voglio fare prima di partire una considerazione allora visti i nomi e le caratteristiche tecniche dei giocatori che stanno arrivando la prima cosa che mi viene da dire è ma nella scorsa stagione i giocatori che sono arrivati siamo sicuri che a stefano pioli andavano bene perché mi sembra di capire che le caratteristiche tecniche cercate da stefano pioli siano completamente in questa stagione siano completamente diverse da quelle di quei giocatori che sono arrivati nella scorsa stagione nella scorsa stagione sono arrivati dei giocatori qualitativamente molto buoni vedi ad li vedi de ketlare messi in posizioni che non sono le loro e probabilmente stefano pioli è stato un po costretto a mettere in campo quei giocatori e probabilmente ancora di più il mio pensiero prende prende forma e prende piede nel senso che nella scorsa stagione chi ha deciso insieme a chi ha deciso di far arrivare quel tipo di giocatori stefano pioli è un dato di fatto che stia ricercando qualità tecniche ma anche tanta fisicità a centrocampo che è un po quello che ci ha portato a vincere un campionato e quello che ci ha fatto vedere le migliori partite di questa squadra stefano pioli sembra stia ricercando quel giocatore che manca da troppo tempo vedi quello simil che si e vedi quello anche simil cialanoglu di qualche anno fa quindi giocatori tra le linee giocatori che possono essere messi in una posizione dove di solito ci dovrebbe stare un giocatore di qualità ma che prettamente riescono a fare un lavoro anche di gamba di movimento da qui parte l'idea pulisic allora partiamo proprio da lui pulisic non è non non va a precludere l'arrivo di un esterno destro chiaramente se dovesse arrivare pulisic ci dovrebbero essere le condizioni giuste per far arrivare anche l'esterno destro ma come vi ripeto da qualche giorno il milan sta tenendo lo slot per l'extracomunitario proprio per vedere se riesce a portare a milano ciucuese questo è lontano dall'essere fatto però è sempre nell'idea del milan nel frattempo l'oftucic arriva a milano visite venerdì e qualcuno aveva detto che venerdì ci sarebbero state delle visite alla madonnina quel qualcuno io non so chi è fatelo ditelo voi allora chiaramente avevamo detto che probabilmente erano quelle del del do di reveille o di sportiello poi nessuno di noi già al momento sapeva che era l'oftucic però qualcuno su questo canale aveva detto che nella in questa settimana ci sarebbero state delle visite soprattutto venerdì e ieri e probabilmente oggi ci saranno le visite di loftucic allora sempre per quanto riguarda il centrocampo ha anche luca romero viene chiuso dal mina le visite mediche del giocatore potrebbero portarsi all'inizio all'inizio del mese qualcuno parla del 7 di luglio non lo so vediamo però luca romero un altro giocatore importante un'operazione importante del mina che prende un buonissimo giocatore a zero e poi ci deciderà cosa fare lo guarderà lo studierà capirà quanto questo giocatore possa performare con la maglia del mina e se il giocatore sarà adatto a vestire la maglia del mina avrà fatto una grandissima operazione in entrata mentre invece se il giocatore non riuscirà a performare con la maglia del mina e non sarà un innesto un innesto ideale per stefano pioli il mina avrà fatto una grandissima operazione lo stesso perché comunque riuscirà a movimentare il mercato o della prossima stagione o di quella dopo ancora quindi ragazzi è un'operazione che una squadra come il milan deve fare quella di luca romero quando io in questi giorni vi dicevo se io devo scegliere fra un giovane a 18 milioni come gular e un giovane a zero della stessa età come luca romero prendo romero tutta la vita perché in un ruolo diverso in un ruolo dove già siamo coperti e dove il milan può azzardare qualcosa di più nella zona di campo di guler ragazzi non si può azzardare niente bisogna comunque prendere un giocatore che quantomeno si sappia possa fare quel ruolo e possa farlo subito nel milan poi tutti gli altri aspetti sono da vedere allora andiamo a pulisic ragazzi come vi ho detto pulisic non preclude l'arrivo di un esterno destro pulisic è importante sia a livello di campo ma anche a livello di immagine per questa società e per questa dirigenza così come il nome nuovo a centrocampo una pista che ci sta scaldando sta prendendo fuoco molto velocemente che è quella di musa del valese al giocatore valutato una ventina di milioni il milano offre 15 secondo me si potrebbe chiudere intorno ai 18 un altro giocatore con una stazza fisica importante e qualità tecniche molto molto importanti allora visti questi due giocatori il giocatore più adatto per il centrocampo del milano ovvero il terzo acquisto a centrocampo che saranno più o meno quelli i giocatori che il milan prenderà a centrocampo più in più il milan potrebbe fare un giocatore qualora dovesse uscirne un altro attenzione che adesso vi spiego questa cosa allora dovrebbe essere rainders il giocatore della z eichmar ragazzi a me questo rainders piace tanto rainders piace tantissimo è un giocatore con ottime qualità è un vice ben nasser ma può giocare anche un po più avanzato può essere messo addirittura al posto del trequartista perché ha grandissime qualità ma soprattutto è un play è un play di diverso da da ben nasser ma molto molto educato ha tanta intelligenza tattica un giocatore che a me piace tantissimo ragazzi l'off to chic l'off to chic è un facsimile di che si con qualità tecniche superiori mentre invece musse è un giocatore di contenimento ma un giocatore che ha un'ottima spinta un'ottima fisicità è un giocatore che riesce ad inserirsi bene un giocatore che fa qualche gol così come pulisic pulisic sta bene ragazzi porta sette otto dieci gol in una stagione ed è quello che serve al milan l'esterno destro ragazzi vi ripeto ciu quesi rimane la prima scelta del milan anche se sarà veramente complicato portarlo a milano allora ragazzi stavo dicendo il milan potrebbe fare qualcos'altro a centro campo se ci fosse un'uscita allora intanto bisogna dare un occhio alle liste perché abbiamo bisogno comunque degli italiani in rosa però se dovessero arrivare delle offerte da una ventina di milioni per pobega il milan potrebbe decidere di farlo partire e a quel punto sarebbe necessario un altro innesto magari di un giovane di un giovane già pronto della serie a ci sono anche lì tanti nomi dominguez del bologna e via dicendo ne parleremo quando sarà il momento ragazzi il discorso è questo i nomi sono questi a me le idee di mercato del milan stanno piacendo stanno piacendo perché sono giocatori duttili giocatori che servono al milan di stefano pioli a differenza della scorsa stagione la scorsa stagione in tanti oggi continuano a fare orecchie da mercante però ragazzi è un dato di fatto che probabilmente le scelte della scorsa stagione siano state prese da una persona sola senza mettersi a discutere con l'allenatore e che poi l'allenatore abbia avuto un sacco proprio di problemi durante la stagione chiaramente quei giocatori che sono scesi poco in campo e perché vuol dire che stefano pioli non è riuscito ad adattarli nei ruoli di competenza ragazzi se prendi due mezzali ragazzi fanno un ruolo fanno un lavoro completamente diverso rispetto a quello che cerca stefano pioli se pretendi che charles de chetlare oltre a metterci qualità tecniche ci metta anche la gamba e la corsa diventa complicato se pretendi che de chetlare possa essere spostato sulla destra o che faccia la punta del milan diventa un po complicato ragazzi quindi ragazzi nella scorsa stagione secondo me abbiamo fatto tanto tanto bene in champions perché i giocatori la base della stagione precedente era ben amalgamata ed è una squadra forte perché la squadra che ha vinto il campionato è una squadra forte però le scelte di mercato della scorsa stagione sono state tutte completamente sbagliate e col senno di poi per non che bisogna dare colpe perché nessuno vuole dare colpe però probabilmente le scelte sono state sbagliate perché qualcuno voleva modificare il tipo di gioco di stefano pioli portandolo a un facsimile del vecchio milan quando stefano pioli non ha nelle corde quel tipo di gioco stefano pioli è sempre giocato comunque sulla tre quarti con un muscolare con un giocatore fisico che comunque facesse da frangi flutti ancora prima della mediana quindi ragazzi abbiamo bisogno di un giocatore tra le linee abbiamo bisogno di diversi giocatori in ruoli chiave in cui in ruoli chiave in questa stagione e il milan sta lavorando nella giusta direzione io sono ne sono convinto però dobbiamo dire grazie ragazzi questo è l'ultimo discorso dobbiamo dire grazie a quei sette che sono andati a fare una figura di merda sotto casa milan qualche giorno fa siete dei fenomeni grazie a voi milan e cardinale si sono un po spaventati e hanno incominciato il mercato grazie grazie mille però la prossima volta state bene a casa e fatevi i cazzi vostri che non è mestiere vostro fare certe cose siete veramente la vergogna dei tifosi del milan vi voglio bene a tutti sempre forza vecchio cuore rosso nero ricordate su questo caso si fa la vecchia maniera noi siamo vecchio stampo ciao a tutti a tutti a tutti a a a a a a a